Partiamo dal presupposto che non si può passare da 28 gradi a 6 gradi nell'arco di due giorni perché è proprio contro ogni regola della natura, non si può, non si può campare così dobbiamo metterci d'accordo, troviamo una temperatura decente che sembra anche con i gradi, anche con la temperatura, sembriamo veramente la Juventus da che eri vicino vicino, all'estate 28 gradi, boom, 6 gradi ma come funziona il capo? Si congela ragazzi, si congela e non per la classifica ma perché qui in Germania il tempo ha deciso di fare, di beffarci ecco, la parola giusta, beffati, siamo stati beffati dal tempo così come la Juventus è stata beffata dal calcio mercato il calcio mercato io vi ho sempre detto ragazzi attenzione perché è un'arma a doppio taglio può fare di noi dei grandissimi youtuber, dei grandissimi giornalisti chi è giornalista in questo caso può fare anche dei grandissimi, non lo so, scienziati del calcio andare a prevedere anche un po' un mago quello che va nell'altra squadra, uno che viene, uno che va tante voci ci sono e soprattutto tantissime notizie grazie al cielo disonneshine finalmente splende un po' il sole ma è fake, questo è tutto fake perché se esci fuori dalla macchina congelio frate congelio, quindi è meglio rimanere in macchina e fare questo video da qui, visto che purtroppo ho degli impegni e non sono nella mia posizione, ma comunque l'argomento è serio perché la Juventus è stata beffata dal calcio e mercato o forse sono i giornalisti che sono stati beffati dalle tante notizie di calcio e mercato andiamo a capire bene che cosa sta succedendo innanzitutto un buongiorno a tutti voi e benvenuti in questo nuovo video la Juventus si sveglia con l'articolo che tutti ormai conoscono e con l'aggettivo che è sempre appioppato e affiancato alla Juve beffata beffata perché Felipe Anderson ormai sulle bocche di tutti così come Tiago Motta come allenatore attenzione perché poi arriveremo anche lì dalla Lazio ormai tutto fatto diceva qualche giornalista che io più di una volta ho ripreso al quale ho tirato un pochettino le orecchie cercando, sperando di portarlo nella via dell'informazione degna di un giornalista però purtroppo sappiamo che quando si devono vendere le notizie si devono riempire le pagine dei giornali si scrive un po' la qualunque ma poi questo è quello che succede perché Felipe Anderson decide di andarsene in Brasile è tutto fatto ormai avevano detto il nostro caro amico giornalista che passa le notizie alla Gazzetta dello Sport aveva detto che per Anderson era tutto fatto mancavano ormai solo le firme gli accordi c'erano stati la Juventus aveva già fatto assolutamente tutto e il centrocampista sarebbe arrivato per poi invece andare a vedere che nulla di tutto questo è accaduto un po' come quando ci hanno raccontato di un Massimiliano Allegri ormai negli Emirati Arabi e poi ce lo siamo visto qui per tutto il campionato un po' come quando ci hanno raccontato dello stesso Pogba è già tutto fatto sempre per gli Emirati Arabi perché vi ricordate quest'estate c'erano gli Emirati Arabi che andavano più del sushi e invece nulla di fatto poi ci ha raccontato di una leghe che già avrebbe firmato un prolungamento con aumento di stipendio e 4 colfi in casa più 5 macchine più decideva lui chi rimaneva chi se ne andava anche lì fake news ce ne ha raccontato un po' ce ne hanno raccontato un po' perché non è soltanto Romeo Agresti ma sono altri giornalisti che però in questo caso continuano a perdere credibilità e allora invece di raccontare che le notizie che abbiamo dato erano fondate tutte su supposizioni quindi erano supposte che poi vi sono rientrate nel cu allora no la colpa della Juventus perché Felipe Anderson ha 31 anni come parametro zero e poi gli devi andare a dare minimo gli devi andare a dare minimo 4 milioni di euro era un affare che la Juventus assolutamente stava seguendo perché non sappiamo quale sarà il prossimo allenatore ma sappiamo di sicuro che Felipe Anderson ha 31 anni era il centrocampista adatto quello giusto quello da mettere in più quello da portare perché adesso ci saranno tante partite l'anno prossimo quindi questa Juventus ha bisogno di un altro calciatore di 31 anni che la Lazio non ha voluto tenere perché altrimenti non l'avrebbe fatto andare via a zero e che non solo in Italia ma nemmeno in Europa ha ricevuto una offerta infatti va direttamente al Palmeiras se non sbaglio in Brasile fuori dal calcio che conta poi mi posso sbagliare io può essere che il Brasile invece è diventato tutto di botto la madre patria del calcio che l'ho sempre stato perché è lì che giocano a calcio però il calcio che conta sappiamo essere in Italia e allora attenzione anzi scusate in Europa non in Italia in Italia era il calcio che conta adesso è diventato un po' una pagliacciata con tutto quello che vediamo per poter smistare gli scudetti una volta ad una squadra una volta ad un'altra squadra e una volta ad un'altra per non parlare poi dei presidenti delle varie federazioni FGC UEFA FIFA Andrangheta che tifano spudolatamente per la prescrittese di Milano Spondamer D'Azzurra questo è tutto normale ed è normale che un calciatore come Felipe Anderson attenzione che la Juventus non si doveva assolutamente far scappare perché era uno dei calciatori che è meglio di lui attenzione per la Juventus è stata una beffa non lo ha voluto nessuno nemmeno in Europa nemmeno in Spagna nemmeno in Francia in Germania da nessuna parte se ne va in Brasile sarà poi magari attenzione una scelta sua decide lui voglio decidere di finire la mia carriera lì però sappiamo che a 31 anni se qualcuno ti fa un'offerta ti dà qualche milioncino ti fa giocare ancora in Europa accetteresti sicuro e invece no nessuno si pone la questione ma questo calciatore effettivamente è stato trattato dalla Juventus no la questione è Juventus beffata ti sei fatto a fregare perché addirittura anche in Brasile ti hanno ciulato un giocatore e questo è il messaggio perché dire abbiamo raccontato adesso come ve la dico io non ve la potranno dire ma abbiamo raccontato Nastron per mesi per settimane vi abbiamo riempito la testa come Tiago Motta che prima era invece un altro allenatore che prima era invece un altro allenatore cioè i tot allenatori ve ne raccontiamo uno al giorno è come quello che vi dice continuamente domani piove domani piove domani piove dopo un mese e mezzo piove viene fuori te l'avevo detto io che pioveva e tu non mi dai mai retta sei tu l'asino portati l'ombrello che domani piove è da aprile che te l'ho detto siamo a luglio doveva piovere giusto una volta mi sembra giusto quindi la Juve è beffata i giornalisti invece non sono charlatani i giornalisti che abbiamo noi in Italia sono come la classe arbitrale la migliore che c'è in Europa e quindi la Juve è beffata e i giornalisti superstar fammi sapere la tua in un commento qua sotto in questo video perché è molto molto importante se sei stufo anche tu del modus operandi del racconto dei media che è diventato ormai anche parte dei youtubers beh fammelo sapere qua sotto se invece secondo te era tutto vero la Juventus era stra interessata e Felipe Anderson ha snobbato la Juve andando a giocare in Brasile fammelo sapere anche qua qua sotto con un commento e ne discuteremo assieme il video finisce qui io vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo al prossimo contenuto mi raccomando un bel like condivisione di questo video iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto e attiva la campanellina per rimanere sempre aggiornato ogni qualvolta uscirà un nuovo contenuto io vi saluto un abbraccio a tutti e ciao a io